www.redigio.it e la storia continua Il Barba Pedana canta storie in diretta in una festa popolare Il Barba Pedana canta storie in diretta in una festa popolare Il Barba Pedana canta storie in diretta in una festa popolare Il Barba Pedana canta storie in diretta in una festa popolare Il Barba Pedana canta storie in diretta in una festa popolare Il Barba Pedana canta storie in diretta in una festa popolare Spuma e poi barbera, faccio i conti sulle scale della mia percentuale, saranno due o trecentonine quel che mi resta attaccata. Si chiamava Ambreuse e faceva l'antreuse, col cappello a larga pesa, naso rosso e mesi ingesa dai vecchi Ambreuse, preta faccia d'antreuse, cameriere, due corretti e un petango nel gibot. Delle volte sono stanco, voglio un po' di riso in bianco, me lo danno senza sale, cotto assai più del normale. Ma che vita, pochi soldi e un ambiente di valordi, io son troppo puntiglioso, no, 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 mi chiesto più. Ve lo dice Ambreuse, non mi sento un'antreuse, sentarci un chissà in statera, quasi quasi renei la cadera, tanto vale Ambreuse, farà vero, ed Ambreuse... Faceva il palo della banda dell'Urtica, ma era sguerzo, non ci vedeva quasi più, ed è stato così che li hanno presi tutti senza fatica, come dire, li hanno presi tutti, no, quasi tutti. Fuori che ero, lui era fisso, che scutava nella notte, quando passava davanti a lui un carabinier, insieme a un ghisa, tre caribbi un metro notte, non c'è una piega, lui la fa, non c'è un pistè. Faceva il palo della banda dell'Urtica, faceva il palo perché ne era il sommesterno, così precisi come quelli della mascherba, sono rimasti lì i suoi vicini a vedere i carabinieri, hanno detto, ma come è brutta, lui già va qua, porca, ma il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso, che scutava nella notte, la visna gotta, ma in compense la senti niente, perché vedersi non vedeva un'autobotte, e da sentirci il che sentiva proprio niente. Faceva il palo della banda dell'Urtica, faceva il palo con passione e sentimi, ci sono stati pugni, spari, grida e botte, e a me la via che ne la diciamo quasi mesdi, lui sempre fisso, che scutava nella notte, perché ci vedeva, steste non, come del di, ed è lì ancora come un palo nella via, la gente basta di camminare e dopo se ne va, lui circospetto, guarda intorno e ti mette via, ma poi il buono botta, perché ormai le ha un po' arrabbiate, e gli è arrabbiato, con la banda dell'Urtica, perché lui dice, non si fa così a rubare, e dice, ma come, a me me la senti di fare, e lui le sa il signor quando è che vieni in sé, e poi il bottino me lo portano su, a mille lì, e un po' per volta, ma a far così non finiamo più, e in acqua schida è proprio un Laura del Giura, io sono un palo, mi confirla, e non ci sto più, io vengo via da questa banda di pistola, mi metto in proprio, così non ci penso più, mi veniferà della banda dell'Urtica, se venga la banda è way, che va a che andare a più, ma la banda è way, che va a che andare a più, ma la banda è way, che va a che andare a più, e io, io? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.